Se l'argomento fosse il gioco di ruolo dal vivo, direi che lo studio del terreno, lo studio del terreno di combattimento, è la base principale per vincere. Perché? Perché il terreno molto spesso determina la vittoria o la sconfitta. Se sei in rialzo, se sei abbassato rispetto al nemico, quello dipende anche dall'equipaggiamento tu che hai. Chiaramente se sei rialzato hai ovviamente dei vantaggi. Il vantaggio di studiare il terreno, dove è situato il nemico. Fargli arrivare chiaramente degli attacchi dall'alto, perché è molto più facile lanciare delle frecce dall'alto verso basso, perché hai un vantaggio estremo. Non solo, lo studio del terreno riguarda anche se il terreno è dissestato, se il terreno è fangoso, se è uno studio molto approfondito sul terreno di gioco, sul terreno anzi di combattimento. Molto spesso anche determina la posizione del sole, perché il sole quando uno combatte chiaramente se ce l'hai in faccia dà fastidio, dà molto fastidio. Quindi molto spesso io consiglio di studiare il terreno e quindi portare l'avversario con cui ci stai combattendo o l'esercito con cui ci stai combattendo in svantaggio. Porti già di svantaggio il tuo avversario, a livello di terreno, in maniera da dare che hai un vantaggio. Ora, questo come chiaramente lo portiamo in un gioco di carte? Non siamo all'esterno, quindi abbiamo entrambi lo stesso terreno di gioco e non c'è il sole della nostra, perché teoricamente siamo all'interno. A parte il mio ultimo regionale, che c'è stava sta cazzo di finestra sopra sto ragazzo, e io ragazzi, giuro, vedevo solo figurelle bianche, perché se rifletteva la luce io non riuscivo a vedere una carta. Poi Carinello non è che gli potevo dire sempre, oh, che carta è quella, che carta è quella, che carta è quella, perché non vedevo un cazzo. Quindi, a parte a me, penso che a nessuno sia capitato una cosa del genere, e spero per voi, quindi, diciamo, determinare la posizione del sole o comunque del terreno è molto irrilevante a livello di yogi. Però è estremamente rilevante, secondo me, studiare l'avversario. Ora, non mi soffermerò sullo studio dell'avversario a livello del mazzo, perché non è di mia competenza. Come non è di mia competenza quello che vi sto dicendo, infatti, prendetelo così. Se stiamo a fare una ghiacchiera. La postura. La prima cosa da vedere è la postura. La postura di una persona può dire tanto. Una persona estremamente rigida può rivelare, secondo me, due fattori. O un'estrema sicurezza in se stesso, quindi ha una postura molto rilevante, quasi si innalza rispetto a te, perché è sicuro di sé. Ma può nascondere anche molta insicurezza in realtà, perché dà estrema sicurezza, perché nasconde. Un'estrema insicurezza. Insicurezza, ovviamente, non in se stesso non si parla di insicurezza delle persone, ma della partita in sé, di quello che stiamo andando ad affrontare. Altri, invece, li vedi molto incubiti, molto chiusi in se stessi, molto in protezione, perché magari sono a disagio. Ecco, non sono impauriti, sono a disagio in quella situazione. Altri li vedi che fanno tipo, come se c'hanno il motorino, vodevano accendere la pedalina e stanno a continuazione e fa così. Quindi, quello anche è scaricare la tensione e l'agitazione. Anche il fatto stesso di sciaffolare le carte in mano, alcune volte è uno scaricare la tensione, altre volte potrebbe essere un pensare. Molte persone, quando pensano, ci devono avere qualche cosa a mano, no? Non è mai capitato? Oppure, il fatto stesso di parlare e di pensare, dà quasi l'obbligo di camminare. Ovviamente lì non puoi camminare, quindi sfoghi la tua percezione dello stress in altre maniere. Come? Sciaffolando le carte. Quindi ci sono molti segnali che noi possiamo vedere e interpretare in maniera differente a seconda di chi abbiamo davanti, chiaramente. Perché non tutte le persone che sono, appunto, come dicevo, rette, così sicure, che ti guardano, hanno una sicurezza. Magari nascondono un'estrema insicurezza, quindi sta anche lì in noi a leggere quello effettivamente che c'è davanti. Io ricordo qualche regionale fa che un ragazzo, io giocavo True Drago, questo ragazzo con cui ci ho giocato, tra l'altro l'ho rincontrato, mi ha fatto una battuta molto simpatica, e diceva, no, no, tu c'hai qualche cosa, tu c'hai qualche cosa. E lui giocava Runic, Sprite, Furai, se non mi ricordo male, Sprite sicuro, o Furai, mi ricordo. Vabbè, giocava Runic e qualche cosa. E lui diceva, no, no, tu c'hai qualche cosa. Perché? Perché io mi sono accorto che in quel momento ero rilassato, ero tranquillo. Ero talmente tanto tranquillo che gli ho trasmesso la mia tranquillità. In realtà io ero tranquillo perché non avevo un cazzo, non avevo assolutamente nulla per fermarlo. Cioè, non avevo assolutamente nulla per fermarlo. Lui stava scombando, ma con riserva. Perché? Perché avevo un paio di carte coperte e una a mano. Ero talmente tanto tranquillo che, trasmettendogli questa sicurezza, gli ho trasmesso questa tranquillità, gli ho trasmesso sicurezza. Sicurezza del fatto che, tanto qualsiasi cosa che fai, ti è in culo. E invece no. Era una... la sua percezione è stata questa. Quello che in realtà io provavo era una tranquillità di, oh, ho giocato quello che potevo giocare, ho settato quello che potevo settare. Se me rompe il culo, me rompe il culo. Cialla. Fine. E' bravo. Ero veramente bravo questo ragazzo. Ero contento di quello che stavo facendo perché anche io stavo apprendendo cose nuove. Comincia a scombare, a fare cose. Poi mi guarda e fa... Tu sei troppo tranquillo. Tu c'hai qualche cosa. E dentro di me ho riso, ma non ho riso perché... Ho riso perché ho detto... Invece... invece fratello mio non c'è un cazzo. Quindi la percezione di quello che noi diamo può essere estremamente diversa da quello che l'altro in realtà assimila. Quindi tornando al discorso, non sempre chi appare sicuro è sicuro, non sempre chi in realtà ha paura può in realtà provare paura. Cioè a chi noi riceviamo che ha paura può provare effettivamente paura. Perché anche una persona che è chiusa in questa maniera, che quindi non è propensa all'apertura, è sulla difensiva, cioè potrebbe non essere paura, ma essere una persona molto conservativa, molto concentrata, molto racchiusa in se stessa, molto silente e studiosa. Quindi non è paura, ma è conservare le emozioni per non trasparire troppo, conservare anche le proprie carte, le proprie giocate, per poi giocare al momento giusto. Perché poi magari quando inizi a giocare fa di questo. E allora si espone verso di te e si apre e che dici ok, mo gioco io, mo entro in ballo io. Quindi non è che ha subito quello che tu hai fatto, stava assorbendo le tue mosse per poi giocare la sua partita. Per riassumere, vincere ancora prima di giocare non è facile, non è certo quello che tu percepisci, è estremamente complesso rapportarsi con un'altra persona che soprattutto non si conosce, o si vede soltanto un'altra settimana, o addirittura l'hai vista proprio un'altra nella vita tua. Perché ogni sensazione e emozione potrebbe essere differente da quella che tu invece percepisci. E quindi come si vince? Secondo me si vince non visionando l'altro, ma visionando noi stessi. Quindi andandoci lì con una preparazione, con uno studio del proprio mazzo e del meta, sufficientemente adatto a darci quella sicurezza di noi stessi, e toglierci quella insicurezza di quando andiamo a affrontare un altro mazzo. Piccolo consiglio personale, se vedete una persona che è palesemente in difficoltà, che è impaurita e quant'altro, due tre parole di conforto ditegliene. Perché tanto a me non mi cambia un cazzo, magari a lui è il primo torneo, comunque non è un giocatore chissà quanto forte, e se avete in mano la partita, se quello poteva fare mille combo, ne ha fatta mezza, è un panicato e quant'altro, un paio di parole di conforto ditele, perché tanto quello non va scopato alla madre, va regalato a una partita, non vi costa niente, fatelo. Vedete che secondo me dopo lui si sente meglio e anche voi vi sentite meglio. Nel tipo a fine video potete commentarmi pure, no tranquillo sei bellissimo anche senza i capelli, a un culo.